L'esultanza della mamma Martina e della fidanzata Sara e degli amici più stretti, tutti riuniti per seguire l'impresa del miranese d'oro Francesco Lamonna, è un'emozione indescrivibile. Per il quartetto dell'inseguimento non è solo oro olimpico, è anche record del mondo. Eravamo qua tutti in compagnia, da dove è cresciuto lui, da Lucimirano, la sindaca del nostro paese, parenti vari, la fidanzata, è stata un'emozione, le lacrime sono scese quando abbiamo visto appunto i risultati. L'oro, il gradino più alto del podio, è un risultato che l'Italia in questa disciplina aspettava sino dal 1968. Francesco Lamonna, 27 anni, entra di forza nella storia del ciclismo. I complimenti arrivano anche dal presidente della regione Luca Zaia e dai dirigenti dell'UCI Mirano. Sotto l'aspetto tecnico direi che è stata ineccepibile, anche perché si confrontavano con una squadra che all'apparenza sembrava più forte. Detto questo, cosa posso dire? Per me, per tutta la nostra società è una grande emozione. Vedere un ragazzino cresciuto con noi e arrivare a questi risultati direi che è una cosa che ci dà la possibilità e quella soddisfazione che ci permette di continuare ancora per molto tempo con la nostra attività. Una splendida vittoria. Tutta a Mirano è orgogliosa di Francesco ed ora si pensa ai festeggiamenti. Stiamo aspettando il ritorno di Francesco, sappiamo che torna lunedì in tarda serata e attendiamo il momento dei giorni successivi per poterlo salutare ed accogliere con i giusti onori. Siamo davvero molto, molto orgogliosi.